Musica All'indomani della preoccupazione espressa dal consigliere comunale di Amiamocava, Massimiliano Di Matteo, sulle modalità di assegnazione degli stalli delle bancarelle lungo il borgo, in vista della festa padronale della Madonna dell'Ulmo, da Palazzo di Città arrivano alcune precisazioni. In particolar modo, l'assessore alle attività produttive Enrico Bastolla ha spiegato i motivi per i quali quest'anno non è stato emanato alcun bando come avvenuto in passato. Tra questi fanno sapere dall'assessorato le prescrizioni in materia di manifestazione a carattere religioso, storico e culturale previste dall'articolo 9 del Regolamento del Centro Storico e che prevedevano l'emanazione di un bando del SUA, entro il mese di aprile, proprio per l'allocazione delle bancarelle, sono state ampiamente superate dal Regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale Metelliano lo scorso dicembre. Recependo quindi le direttive impartite dalle normative regionali, per il nuovo Regolamento il bando è superato, dal momento che viene dato mandato all'Aggiunta Comunale di deliberare e di istituire le aree destinate alle fiere. Secondo quando sostiene Bastolle, inoltre, il SUAP sarebbe impossibilitato ad emettere un nuovo bando dal momento che il territorio cavese non è più lo stesso del 2011 per applicare il medesimo regolamento. Per questo motivo, quest'anno, il SUAP ha ammesso a partecipare tutti gli operatori commerciali, in possesso di autorizzazione al commercio ambulante su aree pubbliche, sia di tipo A che di tipo B, il cui termine di presentazione scadeva il 10 agosto, ad esclusione di quelle pervenute fuori termine. Ora, entro il 30 agosto, da Palazzo di Città sarà emessa la graduatoria relativa alla concessione del posteggio ai partecipanti che si sono collegati in posizione utile. Successivamente, il Comando di Polizia Locale provvederà alla segnatura dei posteggi e dirigerà le operazioni di sistemazione degli operatori assegnati. A disciplinare il tutto, sarà un'apposita delibera di giunta, che prenderà atto di tutte le situazioni finora non regolamentate. Come i cavesi sicuramente ricorderanno, l'organizzazione della festa della Madonna dell'Olmo ed in particolar modo la gestione delle bancarelle, già negli anni scorsi è stato il banco di prova, talvolta nefasto, per alcuni degli assessori che si sono succeduti nelle passate amministrazioni. Si torna in aula dopo la pausa estiva per la discussione e l'approvazione dello schema di bilancio 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017. Il Consiglio Comunale, convocato per lunedì 31 agosto alle ore 17.30, si preannuncia già piuttosto complesso su quello che è lo strumento economico-finanziario sul quale dovrà lavorare il Comune di Sarno. Ci sono novità per l'Atari con ribassi per le utenze non domestiche, quindi ci saranno agevolazioni economiche per tutte le tipologie di attività commerciali e studi professionali. Le aliquote IMU-TASI restano invariate e la copertura dei servizi a domanda individuale è scesa dal 36% al 30,06%. Il tutto in pratica si traduce in ribassi importanti sulle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e ulteriori ribassi sui costi del trasporto scolastico e della refezione scolastica. Le forze di opposizione non sono convinte, sono pronte a dare battaglia sulle percentuali al rialzo, ma si dice tranquillo l'assessore al bilancio Gaetano Ferrentino, più che convinto dello strumento finanziario, che si appresta a portare in aula lunedì a Palazzo San Francesco. Simonetta Lamberti, teatro d'eccezione per lo sport a Cava dei Tirreni. Se la Cavese si appresta a calcare il manto verde dello stadio comunale per la sua seconda amichevole di spessore contro una formazione di Lega Pro in vista del prossimo campionato di Serie D. Grande attesa c'è anche per l'arrivo degli azzurrini della Nazionale Under-19 di Vincervanoli che a inizio settembre affronteranno in amichevole prima l'Olanda e poi l'Eire. Per la Cavese del tecnico Longo l'appuntamento è fissato per domani alle 17. Gli Aquilotti incroceranno i tacchetti contro il Melfi, formazione che milita in Lega Pro alle direttive del tecnico Giuseppe Palumbo dopo la vittoria di ieri contro il solo fra il desiderio. Una passeggiata per gli Aquilotti che hanno chiuso la gara 6-0 grazie ai gol di Danna, Del Sorbo in doppietta, Sicignano, Varriale e Bongermino. Domani si ritorna in campo quindi e l'impegno sarà certo più gravoso nell'attesa che vengano ufficializzate le date del campionato. Nel frattempo il Simone Talamberti non sarà a corto di eventi. Lunedì prossimo arrivano gli azzurrini e sarà subito spettacolo con la prima amichevole contro l'Olanda a cui farà seguito lunedì 7 l'amichevole contro l'Eire. Due testi interessanti per il tecnico Vanoli fresco di promozione sulla panchila dell'Under-19 in vista del successivo impegno con la prima fase delle qualificazioni al campionato europeo di categoria in programma dall'8 al 13 ottobre in Macedonia. Avversari dell'Italia saranno in quell'occasione i padroni di casa, la Finlandia e l'Inghilterra. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS